Cari amici di Pavia Play, io sono Carlotta e vi do il benvenuto a Events Play, la rubrica che vi tiene aggiornati sui migliori eventi del weekend. Nella provincia di Pavia segnaliamo la visita guidata romagnese, storie e storie di luoghi, popoli e cammini presso la piazza Castello di Romagnese, una passeggiata raccontata attraverso le vie principali della cittadina condita da appassionanti aneddoti storici. Nella città di Milano invece segnaliamo alcune mostre d'arte per gli appassionati di cultura visuale. In primo luogo l'esposizione dedicata alle carte da gioco presso il Castello Sforzesco, una selezione delle migliori raccolte da Giuliano Crippa fino alla sua scomparsa. In secondo luogo l'interessantissima collaborazione tra Palazzo Reale, il Museo del Novecento e la Fondazione Somaini per esplorare l'opera di Francesco Somaini, uno degli artisti più multiformi dell'avanguardia italiana. In ultimo consigliamo la mostra Shanduko presso la Ozart Gallery, una collettiva dedicata a quattro artisti dello Zimbabwe per celebrare il tema della memoria e dell'identità culturale attraverso un'ampia varietà di tecniche e media. Vi ricordo che qualora desideriate pubblicizzare il vostro evento qui su Pavia Play è possibile farlo contattandoci presso i nostri canali Whatsapp, Telegram e Messenger. Da Events Play, per questa settimana è tutto, buoni eventi e buon weekend!